La chiesa madre di San Nicola Vescovo risale alla seconda metà del XVI secolo e precisamente al 1573, come indicato sul portale d'ingresso. La sua torre campanaria, suddivisa in tre ordini e risalente al 1465, era nata con ben altra funzione e solo successivamente divenne parte integrante della chiesa. Agli angoli sono visibili quattro leoni, chiamati anche marzocchi, che fanno da vedetta e sono simbolo del potere popolare. La chiesa madre si innalza dal manto stradale di alcuni gradini, racchiusi in un grazioso e robusto passamano in pietra locale e realizzati negli anni 30 del 1900. La chiesa è caratterizzata da una pianta a croce latina a tre navate, divise e sorrette da colonne. La copertura della navata centrale è decorata con cordoni e fogliami. Ma l'elemento che più di tutti colpisce l'occhio del visitatore è il mosaico pavimentale realizzato nel 1877 dal maselli di Cutrofiano, sulla falsariga del pregevole mosaico della cattedrale d'Otranto.